ma chi è chissi? ma li vediamo! scusa amico aspetta dai ragazzi la faccio io sto facendo anche il video io Nino number one Nugno number one oh però io voglio voglio la foto con Nugno Nugno more place big moment grande in uno no 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 vai dai dai fratello we see again don't worry io torno a Lisbona solo per te solo per te o lascio il video noi torniamo a Lisbona ma se tu vieni a Napoli tutti 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 beh lo fai tu perchè sei in video ma tu il video questo è in video faccio una foto faccio una foto faccio una foto grazie grazie ti fariamo sul montone non sto da me non sto da me non sto da me non sto da me cinque strade ok siamo venuti tutti cinque strade tu non hai mai provato la volta al saladello noo noo ascolta non sei stai in instagram come ti chiami? scusa che numero uno Annoa! Annoa! Gigi lo sape che è la prima Ok Non me lo conosce secondo me Gigi A Gigi ci faremo vedere il video Ma chi le ci manca a Gigi? Partecipare! Gigi! Ti faremo vedere questo video Però devi partecipare anche tu Adesso però ci si Sto facendo ancora un video La 2 minuti è 12 secondi Guarda non ho detto che è un cortometaggio E' un video O meno Tutto è classico Puro tutti gli effetti sono Nugno Numero uno Nugno Nuno numero uno No 3 Dio Cristiano No Dio Totti 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 Aspè aspè Dio Maradona Totti Cristiano Nuno Dio Crisi Totti In Maradona E Nuno E Nuno Maradona Totti Vediamo noi se ce l'ho Grazie 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 Oh mamma mamma Oh mamma mamma Oh mamma mamma Sai Perché Batto il Marazone Ho visto il Maradona Ho visto il Maradona E Mamma In Maradona Maradona, non l'acqua, non l'acqua. 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 Allora, perché grande uomo, grande rispetto. Se vieni a Napoli, capisci? Se vieni a Napoli, chiamami, chiamami, chiamami. Ospite mio, ospite casa mia. Aspetta, mi piace troppo, mi piace troppo Roma, casa mia, fai Roma e Napoli. E' un'acqua, non l'acqua, non l'acqua. E' un'acqua, non l'acqua, non l'acqua, non l'acqua. Parco Vanessa, do you remember this, no? Parco Vanessa. Oh, this moment is for us. Wait. 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 Oh, okay. Oh, okay. Yes, yes. Okay. Okay, okay, okay. There's no problem. Forkami, grazie. Grazie, grazie. Grazie a te. Eh. Eh, domani, domani. Dopodomani. Domani after. Scusa. Lunedì. Scusa. Un giorno. Un giorno. Un giorno. Un giorno. Scusa. Ma che te lo fusi? Vorrei ricordare che dopo 9 minuti e 10 secondi. 9 minuti e 10 secondi Salute Salute Grazie Grazie A livello di biffo Che è? Il paralapis Paralapis Quando partis il bico Hai di apparare il lapis Il lapis entra È tipo temperino Rotto, broken In the house Panaleiro 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 Un uomo che faze panelas E entra a comida na panela Ma che è panela? Panela è penna Entra il cibo dentro la ventola Entra il chorizo Na panela Ah, è difficile Perché serve tipo una panela di salame E una salsiccia Dentro la ventola Della panela Sto guardando qua Sto guardando qua Sto... Uh! 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 Panelairo Rabeta Rabeta Una sera uestà Lui Le mogli sempre che del non vore Vore in Italia Hufu In Italia Bebe who Marito buono Grazie a tutti.